Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Nelle mani di Monsignor Grillo, che per un soffio non ebbe un infarto. Da allora il Vescovo si prodigò per spianare la strada ad un riconoscimento ufficiale. La statuetta fu esaminata scientificamente e si appurò che non vi erano trucchi o apparecchi nascosti all'interno e le lacrime erano di sangue umano. Il Vescovo Grillo collocò il 17 giugno 1995 l'immagine in una teca e l'ha esposta alla venerazione dei fedeli presso la chiesa di Sant'Agostino in località Pantano. Da quel giorno è cominciato un considerevole pellegrinaggio da tutte le parti del mondo e sono state rilasciate molte relazioni di grazie, accompagnate da ex voto che attestano la materna intercessione di colei che tutti chiamano la Madonnina di Civitavecchia. Sia Jessica Gregori che suo padre Fabio in più occasioni hanno affermato che ci sono state delle apparizioni della Madonna, durante le quali sono stati dati anche dei messaggi. Padre Flavio Ubodi, 76 anni, teologo cappuccino, è stato vicepresidente della commissione teologica diocesana incaricata di investigare sul caso ed è autore del libro Civitavecchia, 25 anni con Maria. Dal 1995 segue spiritualmente la famiglia Gregori per vegliarne spiega la fede, la costanza e l'obbedienza. Ha dichiarato, eventi come questo sono un invito pressante a mettere in pratica quello che la fede già insegna attraverso la scrittura, la tradizione e il magistero della Chiesa. Una madre che piange è una madre preoccupata per le sorti dei suoi figli. Se piange sangue vuol dire che la situazione è drammatica e infatti nei messaggi affidati alla famiglia Gregori la Madonna evidenzia tre preoccupazioni. Quella per la famiglia, aggredita dalle potenze del male e a rischio di sgregazione, come vediamo purtroppo oggi con il dilagare di divorzi e unioni di papi. Quella per la Chiesa, che in futuro avrebbe subito attacchi terribili dal suo interno. Oggi addirittura si cerca di mettere l'uno contro l'altro i due papi, Benedetto e Francesco. E poi l'ultima grande preoccupazione è quella per l'umanità, che ha imboccato una strada che può portarla alla distruzione completa. Tutte cose che stanno accadendo sotto i nostri occhi. L'invito di Maria è quello di collaborare con lei e con il Signore per arginare questa deriva con la conversione personale, la pratica dei sacramenti, la recita del rosario e la consacrazione al suo cuore immacolato. Anche il grande esorcista padre Gabriele Amort disse di credere, rassicurato dalla visione di una sua figlia spirituale, che gli aveva detto che una madonnina vicino Roma avrebbe lacrimato. Anche madre Teresa di Calcutta incontrò i Gregori e pregò insieme a loro. Inoltre Giovanni Paolo II, il 9 giugno 1995, volle la statua della Madonnina in Vaticano per pregare davanti a lei. Poi le mise tra le mani un rosario suo personale, la incoronò e controfirmò una dichiarazione di Monsignor Grillo con la quale, di fatto, affermava di credere alla soprannaturalità dell'evento. È un atto privato, certo, ma lo ha fatto da pontefice. Una statua identica all'originale è stata poi donata ai Gregori da un cardinale polacco molto amico di Giovanni Paolo II. Dal 1995 ha avuto fenomeni particolari, ai quali hanno assistito numerosi testimoni, come trasudare olio profumato in occasione di feste particolari o quando ci sono gruppi di persone che pregano. Il liquido è stato fatto analizzare dall'Università Gemelli di Roma ed è risultato essere un olio di essenze odorose di proprietà vegetali. In occasione della morte di Uetila, il 2 aprile 2005, ha pianto lacrime naturali. I Gregori oggi sono una famiglia normale, molto semplice. Conducono una vita cristiana impegnata, ma non bigotti. Papà Fabio lavora all'Enel, la madre, Anna Maria, è casalinga. Jessica si è sposata e ha avuto un bambino. Monsignor Grillo voleva che si facesse suora, ma lei rispose che il volere della Madonna era che si sposasse per testimoniare la bellezza della famiglia cristiana. Ora recitiamo la prechiera alla Madonna delle lacrime di Civitavecchia. O Madre mia carissima, o Vergine Maria, che ai piedi della croce raccogliesti tutto il sangue purissimo del tuo adorato figlio, esaudisci la mia preghiera. Fa che quel sangue vermiglio sparso per tutti gli uomini non sia defluito in vano sulla nuda terra. Ravviva con esso le mie povere lacrime con le quali voglio rispondere all'amore di un Dio morto e risorto per me. Concedimi la grazia di una sincera conversione che mi allontani per sempre dal peccato e da ogni dubbio. Sostieni ed aumenta la mia fede, irrobustendola con la totale adesione alla volontà del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Mamma mia dolcissima, asciuga le mie lacrime, allontana dalla mia famiglia, dalla mia città, dal mio ambiente di lavoro e dal mondo intero le terribili grinfie del maligno. Proteggi la Chiesa del Cristo, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, il Popolo Santo di Dio. Custodisci con amore tutti i nostri bambini, salvandoli sempre da mani impure e violente. Proteggi i giovani e i deboli, liberandoli dal flagello della droga e dalle sfrenatezze del sesso. Assisti i nostri ammalati, assicurando loro una pronta guarigione. Infondi sempre il coraggio al nostro Vescovo e a tutta la nostra Chiesa particolare. Veglia sempre su tutte le anime consacrate al Signore. Mandaci i sacerdoti santi e nuove vocazioni al servizio dell'altare e dei fratelli bisognosi di continua attenzione ed assistenza spirituale. Risveglia il mondo dal suo torpore di morte che lo ha allontanato dal Figlio tuo, dalla fede nell'unico vero Dio e dal senso del peccato. Ridona a tutti la luce, speranza, calore e amore. E infine, oh Maria, prima di dipartirmi da te voglio domandarti la grazia che più mi sta a cuore e per ottenere la quale ardentemente ti prego in questo momento chiedere la grazia. Madonnina di Civita Vecchia prega per noi. Amen. o o o Grazie a tutti.